Giovani di belle speranze, certamente, in grado di ragionare con la propria testa, anche al punto di dissentire leggermente dal proprio capogruppo in Consiglio Comunale. Dopo la presa di posizione di Giuseppe Ripari, capogruppo di giovani in movimenti al Consiglio Comune di Trapani, in merito alla presenza di esponenti della parte giovane della politica cittadina nella giunta guidata dal sindaco Tranchida, abbiamo chiesto agli altri due componenti del gruppo, cioè i consiglieri Marzia Patti e Giuseppe Virzi, se fossero sulla stessa lunghezza d'onda del loro capogruppo. La risposta è sì, ma fino a un certo punto. L'attuale situazione della nostra città impone una scelta responsabile e forse noi tre giovani consiglieri, alla prima esperienza, siamo più responsabili di chi appartiene alla vecchia scuola politica. E mi spiego meglio, la cosiddetta giunta tecnica, da un anno a questa parte, ha intrapreso un percorso teso a trovare soluzione a molteplici problematiche. Pertanto, ritengo anche sia doveroso da parte nostra far sì che gli assessori tecnici preposti, come ho già detto, alla soluzione di determinate problematiche, rimangano in carica finché non hanno trovato risoluzione al problema loro sottoposto. Certo del fatto, ovviamente, che il sindaco garantirà al 100% la presenza di un giovane in giunta entro la fine del suo andato. E Libari, quindi, che fa? Rimane isolato nella sua posizione oppure cala la testa e si adegua al volere dei suoi due compagni di banco? Mercoledì, comunque, ritorna il sindaco Tranchida che si è concesso qualche giorno di vacanza e forse la questione sarà definitivamente risolta col buonsenso oppure con la forza.